Giovedì 13 marzo, in occasione della Giornata Mondiale del Rene, al Vecchio Pellegrini si effettueranno, dalle 10 alle 17, visite nefrologiche gratuite e misurazione della pressione agli utenti che ne faranno richiesta. All'iniziativa collaborerà la Croce Rossa Italiana e l'Associazione Volontari Ospedalieri che allestiranno una tenda nel cortile dell'ospedale. La Giunta Comunale ha approvato la delibera per l'istituzione del Registro dei Testamenti Biologici, raccoglierà le dichiarazioni dei cittadini residenti a Napoli che vogliono esercitare su base volontaria il proprio diritto all'autodeterminazione sul trattamento sanitario di fine vita. Le domande vanno depositate presso la Casa Comunale a Palazzo San Giacomo. Da sabato 8 marzo, nel quartiere di Pianura, saranno posizionati oltre 100 contenitori di colore magenta per riciclare insieme carta, vetro, plastica e alluminio che saranno poi selezionati negli impianti di destinazione. Gli operatori Asia hanno inoltre sistemato altri 35 contenitori di colore marrone per favorire la raccolta differenziata degli scarti alimentari. Fino al 4 aprile è possibile presentare la domanda di iscrizione nelle scuole dell'infanzia comunali per l'anno 2014-2015. Possono essere iscritti i bambini residenti nel comune che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre il terzo anno di età. Tutte le informazioni presso le scuole o sul sito del comune dove si trovano anche i modelli per la domanda.